contro questa intervenzione di l'italiano e, in particolare, di l'europeo. E magari ho perduto alcuni voti, magari ho perduto alcuni consensi. Mi preferisco perdere il consensi che perdere la dignità. E considero la dignità di humanità più importante, che continueremo a salvare le persone sul mare. Ma, inoltre, sappiamo, e voi sappiamo, che l'unica modo per stoppare il traffico di humanità è lavorare insieme, creare la possibilità di lavori di creazione qui, dare l'opportunità alle persone e, insieme, combattere contro il terribile messaggio. Questo è un challenge reale e importante per tutti. l'Europa deve investire qui e dare il messaggio per la nuova generazione per crescere in Ghana, se vogliono, e, inoltre, essere capiti. Non ricordatevi di essere persone umani, perché la dignità umana è la cosa più importante del mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.